Amiche, amici, trans e gay, amici dell'Oxera, vedo un personaggio sinistro con tanto di luce in testa chi è? è il mitico prof che sto montando un attimo la lenza ok perché siamo appena arrivati siamo appena arrivati comincia a essere abbastanza brutto e buio più vicino io ho montato una gommetta non si vede aspetta che ero facendo il flash eccolo qua grazie ancora ho montato una gommetta ecco che mh2 vedi si agita se ci fosse branzinaus oppure il mazzugoro gigante noi prendiamo e ora lui monterà una totanara presumo e poi anche io andrò a totanare va bene ora andiamo un po raschiare il fondo ma al prossimo raduno quando sarebbe dopo si sicuro allora ragazzi ho messo ho messo questa quest'angherzo qua adesso provo con questa bestia purtroppo non sono riuscito a far andare l'amo più vicino alla testa però io confido nel nel pescione ma dovrebbe andare qua però io confido nel pescione maleducato dunque col serpentello io una tocchetta l'ho sentita te prof come niente tu sei proprio a sepi e secco e per polpi polpi sepi toltano i calamari insomma quello che faccio i tuoi calamari sono distanti e ora ci arriviamo ora ci arriviamo ragazzi noi non andiamo dai pesci sono i pesci che arrivano mai professional che sta litigando col fondo non sento allora direi che una pietra prova andare di là a tirare dell'altra parte perché il piombo è libero qua ce l'ho preso già al polpo e l'impronta ancora la lì ha fatto una bella patta a terra al polpo se c'è l'impronta nel cemento lì e chi la sai vabbè allora cosa una bella patta mi sembra che sei sul fondo sai nota è benigni guarda un po stai pescando sotto al terrazzo la è un tentacolo eccolo lì è venuto ecco il boh gli hai strappato il tentacolo hai visto spettacolo è te se non prendi la tua cima quotidiana daci oggi la nostra cima quotidiana non ripiena ma ma di corda è bello infatti l'avevo preso la in mezzo di polpo lì è buono la tana del polpo io nel frattempo se ti può far piacere neanche una tocca cioè una tocca prima ora vado nel posto segreto andiamo laggiù dove ieri abbiamo presi un botto cioè te lo dico a te ma non lo dico a chi ci segue perché sono una merda ora andiamo a provare giro di fuori ragazzi c'è professional di nuovo con la sua bella canna piegata è una volta che ce l'hai un po che ce l'hai un po col fondo corde no però mai sentito la botta o no eccola io l'ha persa adesso tutto vediamo se c'è il tentacolo secondo me c'era dici c'è un tipo a tirare il kraken vabbè io nel frattempo con lì con il merdino niente assolutamente niente vabbè ora riprovo allora diciamoci che abbiamo fatto il tutorial su come prendere cappotto anche questo è utile se la gente non vuole prendere cappotto non deve fare come noi come abbiamo fatto oggi va bene dai direi che ci possiamo vedere alla prossima grande prof ciao ciao